Perchè? Perchè tutto questo? I colossi, i guardiani si sono ribellati perché sono passati dalla parte di Ganon. Daruk, Revami, Mipha, Urbosa sono intrappolati nei colossi ed è tutta colpa mia. Il potere del sigillo non si è risvegliato e ora Ganon ci ha anche portato via i colossi. Tutto quello che ho fatto finora non è servito a niente. Tutte le persone a cui voglio bene, la mia gente, i miei amici e perfino mio padre sono tutti morti per colpa mia. Lo vedi? Ho fallito. No. 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 No.